Innanzitutto ho per l'opportunità di essere qui a discutere di questi temi che mi stanno particolarmente a cuore sia a livello di ricerca che di condivisione sia nell'insegnamento che con i colleghi e anche per poter dialogare con Alessandro su questi temi. Sono veramente contento di aver avuto la possibilità di organizzare in una cornice tanto prestigiosa questo ciclo di incontri dal titolo dell'audiovisuel. Ecco, o dell'audiovisuel, al di là del visuale. Innanzitutto, prima di soffermarmi un po' sul titolo che abbiamo dato a questo ciclo di incontri e dirò due parole molto brevi su quello che andremo a vedere insieme oggi con Alessandro. Innanzitutto ci porremo il problema del rapporto tra immagine e soggettività. Io e Alessandro teniamo molto alla dimensione antropologica delle immagini, al rapporto tra immagine e soggetto, all'importanza dell'immagine nel processo di ominazione, quindi all'antropogenese, al divenire umano dell'homo sapiens. Questo sarà diciamo il primo punto che toccheremo. Il secondo punto che toccheremo è il problema del divenire immagine, che sarà un po' il fil rouge del nostro intervento, nel mondo antico, ossia come si diviene immagine. Se l'essere umano è quell'animale che produce immagini, è altrettanto vero che l'essere umano è anche quell'animale che in maniera peculiare diventa immagine. Ma che cosa significa nel concreto? Cercheremo di vederlo insieme a partire da due esempi, quello dell'ascetica e quello della retorica, che sono appunto due esempi emblematici, potremmo dire, di questo divenire immagine nel mondo antico. Poi con un grande salto a livello cronologico, ma non a livello logico, mi sentirei di dire, andremo a discutere dell'immagine digitale e dell'esperienza ludico digitale. Ecco, diciamo, ci terrei a utilizzare questa espressione, esperienza ludico digitale, o semplicemente gioco digitale, piuttosto che videogioco, per, ma lo vedremo meglio poi, emancipare il tema del videogioco dal paradigma visuale. Ossia, come andremo a vedere, videogioco non ha solamente a che vedere con il video, con la visione e con lo schermo. Ecco, io Alessandro, in una sorta di armonia prestabilita, abbiamo scritto il nostro intervento a quattro mani in maniera estremamente concorde fino alle conclusioni che divergono un pochino. Quindi tenete presente che tutto quello che dico io è come se venisse detto da Alessandro e viceversa, fino al momento in cui giungiamo alle conclusioni, in cui abbiamo delle prospettive di ordinamento delle nostre considerazioni un po' diverse. Diciamo, io parlerò di tecniche culturali, Alessandro parlerà di metatecniche, e poi, appunto, per utilizzare un gergo calcistico, lasceremo la parola e la palla anche a voi per capire se queste nostre proposte sono plausibili o meno. Ecco, al di là del visuale, diciamo, al di là del visuale non significa al di là dell'immagine. Parleremo di immagini oggi, parleremo di immagini in questo ciclo di incontri, l'immagine è un operatore fondamentale dell'antropogenesi, come appunto ho appena cercato di dire, quindi è un elemento essenziale del divenire umano dell'uomo nel suo percorso evolutivo. E quindi bisogna pensare l'immagine a partire dal problema del soggetto, il problema del soggetto a partire dal problema dell'immagine, ma non necessariamente l'immagine come qualcosa che va ridotto, che va ridotta al suo aspetto visuale. Ecco, questo ci tornerò, però è per noi di grande rilevanza. Facciamo un po' di quello che i tedeschi chiamerebbero Begriffgeschichte, cioè la storia dei concetti, e ci rendiamo conto che il problema dell'immagine è un problema già di definizione a povo fin dall'inizio, ossia se l'essere si dice in molti modi, come i filosofi sanno bene, anche l'immagine si dice in molti modi. Già la parola greca eikon e la parola latina immago hanno significati molto differenti. L'immagine per gli antichi significa immagine bidimensionale, un quadro, immagine tridimensionale, una statua, immagine concreta presente nel mondo esterno, qualcosa appunto che incontriamo nel mondo, ma anche la rappresentazione interiore è un'immagine. Viene utilizzata appunto eikon, imago, oltre a altre parole come eidron, che di post-fantasma, simpago. L'immagine può essere creata dall'uomo, una scultura, un dipinto, ma anche può essere frutto di processi naturali, l'ombra, che proiettiamo, il nostro riflesso nell'acqua. Queste sono tutte definizioni contenute nell'originaria parola immagine in greco e in latino. Però ecco, ci sono anche altri significati, il concetto di immagine che sta non particolarmente a cuore nell'ordine di idee che vogliamo difendere, vogliamo esporre questo nostro contributo. Ossia, immagine indica anche il rapporto asimmetrico tra una forma, persona, entità stratta, ideale e quella di cui, o meglio, che ne è l'immagine. Ad esempio, l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. In retorica, con immagine, si indica anche la descrizione effettuata tramite favole, aneddoti, parabole, paragoni di un qualcosa, quindi la creazione di immagini mentali tramite parole, tramite voce, scrittura. E inoltre, come variante di paradigma, di exemplum, di paradigma e esempio, immagine indica l'incorporare caratteristiche esemplari. Appunto, quando si dice di una persona un modello, interessante, ad esempio, che altre lingue, appunto il tedesco, ad esempio, indica la parola modello, si dice for build, cioè un'immagine build che sta di fronte, proprio un'immagine che sta di fronte agli altri, quindi si pone come modello, se di comportamento, ma pensate anche ai modelli, ad esempio, in un'accademia di belle arti, il modello, quello che viene copiato, serve appunto come typos ideale per la rappresentazione. Ecco, se vogliamo andare un passo in avanti, io lascerei qui la parola ad Alessandro, che invece continuerà a interrogare questa differenza tra l'immagine e il non immagino, o meglio, questo rapporto tra l'immagine e il suo altro. Perfetto, grazie mille Antonio, vabbè, innanzitutto grazie mille a Gemma per la bella introduzione, grazie anche a Graziano, grazie ad Antonio per avermi, insomma, permesso di fare questo lavoro con lui. Avrete già notato che, come dire, le slide, come dire, fanno questo giochino di dividere, diciamo, le parti fatte da l'uno dall'altro. Rimarco semplicemente che c'è grande accordo tra me e Antonio su quasi tutto, insomma, poi nelle conclusioni abbiamo semplicemente due sfumature diverse, ma ecco, in generale ci godiamo questo momento di, insomma, di accordo e di convergenza che si concluderà domani con la partita tra Napoli e Lazio. E a questo proposito faccio anche notare che ti ho lasciato l'azzurro, quindi, insomma, mi riservo di essere un perfetto ospite. Sono molto grato. Fantastico. Allora, continuo quello che diceva Antonio. Ecco, Antonio vi ha presentato una, come dire, un elenco di possibili dilamazioni di quel grande plesso semantico che cade sotto l'ombrello di ciò che noi chiamiamo immagine. E quindi cosa ci dice questa grande varietà? Ci dice, innanzitutto, che il termine immagine interessa una pletora di fenomeni anche molto diversi tra di loro. Le immagini sono naturali come artificiali, sono materiali ma sono anche mentali, possono essere visive ma possono essere acustiche, possono riguardare gli altri sensi. In questo contesto io e Antonio vorremmo sottolineare innanzitutto due punti che ci interessano particolarmente. Il primo punto da sottolineare è che la stessa differenza tra immaginale e razionale, per esempio, quella differenza che in modo primario e anche un po' infattico viene posta attraverso l'utilizzo della contrapposizione, se vogliamo, tra Eicon e Logos, non è un dato naturale, non è qualcosa di assunto e di pacifico, ma è un modo già specifico di rapportarsi al problema delle immagini. È, per così dire, già un'opzione teorica tra altre. A questo proposito, per esempio, l'interpretazione dell'inizio, o meglio, l'interpretazione, il modo in cui leggiamo l'inizio dell'interpretazione di Aristotele, nel quale si afferma, ad esempio, che i segni scritti sono simboli della voce e che la voce è simbolo del pensiero, insomma, dipende di tutto da cosa intendiamo per simbolo, da come traduciamo questa parola greca. Allo stesso modo, come dire, la dottrina platonica, che per quanto, come dire, problematicamente, ma con mille raffinatezze teoriche, divide e contrappone immagine e parola, rispetto a questa dottrina esistono altre possibilità, ad esempio quella sofistica, che è stata analizzata molto bene da Barbara Cassand e che è altrettanto radicale e altrettanto nobile e che intende la differenza tra Eikon e Logos come una differenza interna all'ambito delle immagini. Cioè Logos ed Eikon, secondo questa posizione, sono semplicemente due tipi di immagini, diciamo così. Ora, aprendo la grande distinzione tra immagini e naturali, e immagine convenzionale, per esempio, anche il simbolo, come dire, appartiene a questo senso estremamente allargato del concetto di immagine. Questa forse è una precisazione utile. Ecco, io e Antonio, quando parliamo di immagine in questa introduzione a questo ciclo seminariale, vogliamo intendere il termine immagine nel suo significato più ampio possibile. Non vogliamo, per così dire, tentare di non assumere immediatamente un'opzione teorica senza quantomeno prima discuterla. Il secondo elemento che vorremmo mettere in luce è che la catalogazione che Antonio ha operato, cioè l'elenco dei termini appartenenti alla famiglia del macrosignificato immagine e la distinzione dei loro significati specifici non deve indurci nella tentazione di intendere le immagini come un certo tipo di cose. Detto in altri termini, il concetto di immagine non ci permette di demarcare un ambito degli enti. Non crea un cassetto nel quale infilare un certo tipo di oggetti. Non ci permette di distinguere un certo tipo di cose differenziando tra quelle che sono e quelle che non sono immagini. Per poi, tra le immagini, ad esempio, distinguere tra i simboli, i fenomeni, le icone, le rappresentazioni, i paradigmi, le immagini mentali, e così andando. Il nostro obiettivo non è quello di tracciare un'ontica delle immagini, bensì un'ontologia dell'immaginalità, cioè di effettuare un'analisi dell'essere immagine. Secondo quest'analisi, la nostra, come dire, chiesi di lavoro, per così dire, la nostra ipotesi di ricerca è che l'essere immagine è una funzione mediale e non è una semplice proprietà oggettuale. Quando dico proprietà oggettuale, intendo riferirmi a una proprietà che, per così dire, permette di definire intenzionalmente una classe di oggetti, una classe di enti. Orbene, ecco qua, perfetto. In via del tutto preliminare, quando parliamo quindi di funzione mediale, cioè quando quindi cerchiamo di individuare questa funzione immagine, potremmo identificarla a partire da due operatori che sono in costante tensione reciproca. Da un lato, la funzione immagine consiste nel rendere presente qualcosa, a una funzione di presentificazione. In seconda battuta, la funzione immagine consiste nel trasformare quel qualcosa stesso. La funzione immagine è al tempo stesso un operatore, come dire, presentificante e transmediale, il cui carattere quindi è strutturalmente metaforico. La parola corretta qui è metafora. Cosa vogliamo dire con questo termine? La funzione immagine non si limita a spostare spazialmente l'oggetto, oltretutto non lo sposta necessariamente dal punto di vista spaziale. Non si limita a estendere l'oggetto o a presentarlo altrove. Di nuovo, non è necessario che lo presenti altrove, ma trasla la modalità d'essere di quello stesso oggetto su un diverso piano mediale. Fa essere quell'oggetto altrimenti. Questo è il modo forse meno spazializzato dal punto di vista della metaforica del linguaggio di dire questa cosa. Ora, al tempo stesso, questa operazione metaforica non è qualcosa che sopraggiunga dall'esterno rispetto alla pratica di presentificazione. Cioè, presentificazione e metaforizzazione non sono, per così dire, due operazioni parallele che si giustappongono una rispetto all'altra. L'immagine piuttosto rende qualcosa presente nell'atto di metaforizzarla. Cioè, rende qualcosa presente nell'atto di rendere quel qualcosa altrimenti, diciamo così. Dove bisogna fare una precisazione un po' raffinata, forse un po' penante. Non renderlo altro, nel senso di renderlo un'altra cosa, ma di farlo essere in modo diverso. Questa è un po', diciamo, la sfida teorica che vorremmo proporvi. Ora, questa strutturale alterità dell'immagine è ciò che la rende sempre, logicamente, ma non cronologicamente e non ontologicamente, almeno non necessariamente, qualcosa di secondo rispetto a qualcosa di primo. Questa è un po' l'idea. Cioè, è perché l'immagine ha questa funzione di presentificazione e metaforizzazione che noi pensiamo sempre nell'immagine come a qualcosa di secondario rispetto a un primo che magari resta inattingibile, ma che non di meno noi dobbiamo, per così dire, postulare come pre-immaginale al fine di poter effettivamente pensare l'essere immagine dell'immagine. Qui, insomma, io e Antonio abbiamo due riferimenti diversi che però sono curiosamente convergenti. Cioè, io penso alla teoria fischiana della soggettività, Antonio aveva più in mente la nozione freudiana di Natraglischkeit, quindi, insomma, sarebbe anche interessante lavorare ulteriormente su questa cosa. Da questo punto di vista, il superamento del primato visuale, cioè questa cosa sulla quale anche Gemma ha posto l'attenzione, la volontà di andare al di là del primato della dimensione meramente visiva nel considerare le immagini, si muove su due piani. Da un lato vorremmo considerare il carattere strutturalmente sinestetico, come ha già detto Gemma, il pluriestetico della dimensione immaginale. Dall'altro, e forse questo è un elemento ancora più importante, vorremmo porre l'accento sul carattere non meramente oggettuale delle immagini, che vengono interpretate come delle cose individuate nello spazio proprio in base a un pregiudizio di carattere visivo, perché è la vista che ha, come dire, questa funzione in qualche modo oggettivizzante e individuante. Se dunque il riferimento alle diverse accezioni dell'immaginalità che abbiamo elencato ci permette di individuare alcuni campi specifici di indagine, parlare di fenomeni, non è parlare di rappresentazioni e così via, il nostro primo obiettivo però è quello di mettere a tema il problema dell'essere immagine in quanto tale, dal punto di vista ontologico e antropologico e anzi rifiutando la possibilità di separare davvero questi due piani. In questo senso quindi occorre innanzitutto spiegare e Antonio andrà avanti in questa direzione, in che senso non è possibile parlare di essere immagine senza parlare di divenire immagine. Sì, grazie Alessandro. Ecco, per quanto gli argomenti cronologici non necessariamente siano validi da un punto di vista del valore o dell'ontologia, io e Alessandro vorremmo partire diciamo da una notazione di carattere empirico, ossia studi di paleoantropologia e paleolinguistica hanno appurato che molto probabilmente la mutazione esofagea che ha portato l'essere umano a poter articolare un linguaggio diciamo secondo una forma regolata risale circa 200.000 anni fa. Gli esseri umani però producono immagini da circa due milioni di anni. Ora, questa è un'annotazione che fa uno studioso tedesco che insegna Berlino di nome Horst Bredekamp in un libro molto bello tradotto in italiano con il titolo Immagini che ci guardano Teoria dell'atto iconico per Raffaello Cortina ecco che cosa ci dice questa immagine? Ci dice questa immagine questa questa narrazione cronologica che se l'essere umano classicamente nella filosofia greca viene definito come quell'animale che porta con sé il logos questo essere un animale che porta con sé il logos che possiede il logos può essere pensato come un episodio all'interno di una storia più grande ossia la storia di quell'animale che crea immagini l'animale immaginale potremmo dire quindi l'essere umano non è solo un animale che ha il logos ma è anche forse primariamente sicuramente prima a livello cronologico un animale che si rapporta all'immagine quindi c'è un rapporto tra ominazione antropogenesi divenire umano dell'essere sapiens e immaginalità e questo si basa su un'esperienza in realtà non straordinaria ma l'esperienza costante cioè quello del divenire immagine il nostro corpo come tutti i corpi diviene costantemente immagine però c'è un proprio umano ossia l'uomo è l'ente che prende in carico il proprio divenire immagine che si plasma che si performa in maniera autonoma e autonormata nel divenire una specifica immagine come lo fa tramite la tecnica quindi c'è diciamo un nexus una serie di connessioni che legano essere umano tecnica e immagine che vanno pensate insieme se si va a pensare l'origine diciamo del il momento antropogenetico fondante diciamo che questo si può condensare in questa piccola frase che è sottolineata nel mio fumetto ripensare lo statuto dell'immaginalità significa al tempo stesso ripensare la natura della soggettività stessa ossia se l'essere umano è quell'essere che si dà nel rapporto tra le tecniche che lo rendono un'immagine allora al cambiare delle tecniche al cambiare delle immagini cambia l'essere umano ossia l'essere umano si performa si trasforma si muta tecnicamente tecna appunto è un termine che indica una conoscenza pratica del mondo in questo diventa immagine qui appunto potete vedere in questa slide una serie di nomi e di concetti e di autori che negli ultimi trent'anni si sono rapportati al problema della cosiddetta agency delle immagini ossia dell'agentività delle immagini possono le immagini agire questo problema viene posto da Bradekamp che è questo autore che ho che mi accompagna qui in versione pixel sulla mia destra e viene posto appunto in questa teoria dell'atto iconico che è il titolo tedesco del libro che ho presentato citato in italiano si chiede se le immagini agiscano se le immagini abbiano un potere retroattivo su di noi ma diciamo i prodromi di questa teoria dell'atto iconico si hanno in discorsi classici di teoria dell'immagine come quello di Mitchell sul pictorial turn di Gottfried Boehm sull'iconic turn e che affondano le loro radici su un discorso ancora più ampio che è quello del cosiddetto material turn o sulla questione dell'actor network theory di Brun Latour tutti i nomi per indicare una nuova direzione della teoria che tenga strettamente in considerazione fermamente in considerazione il potere della materialità nel segnare i processi psichici i processi di autocomprensione del soggetto e così via quindi diciamo teniamo presente che questo nostro discorso si incardina in un orizzonte teorico dove la materialità delle immagini viene riportata in auge e viene riconsiderata come centrale quello che vorremmo fare noi però è uno scarto laterale grazie Antonio perché? perché appunto in tutto questo dibattito relativo al carattere soggettivo o come direbbe Mauro Carbone quasi soggettivo delle immagini o in qualche modo dei media degli oggetti tecnologici o dei modelli in generale è stato ovviamente affrontato con numerosissime sfumature ha generato numerosi posizionamenti teorici pro e contro qual è lo scarto laterale al quale ha fatto riferimento Antonio e che costituisce un po' uno dei punti di partenza della nostra proposta noi non vogliamo chiederci tanto se le immagini siano o possano diventare soggetti cioè agenti intenzionali come dire se le immagini possano agire quanto più al contrario vorremmo chiederci se i soggetti non siano sempre immagini o come possano diventarlo se possano diventarlo con questa mossa ovviamente non intendiamo eludere la questione cioè non intendiamo come dire evitare il problema circa il potere performativo delle immagini ma proprio affrontare quello stesso problema da un punto di vista almeno in parte differente questo perché perché proprio nel momento in cui ci emancipiamo da questa so menzionata concezione oggettuale delle immagini cioè proprio nel momento in cui evitiamo di pensare le immagini come soggetti dobbiamo chiederci qual è il rapporto tra la funzione mediale in cui consiste l'essere immagine e la struttura stessa della soggettività cioè affermare che le immagini non sono semplici oggetti non significa necessariamente affermare che le immagini siano soggetti autonomi separati la cui natura sarebbe attestabile al modo di un gato in qualche modo anzi si potrebbe affermare che proprio alla base di questa idea cioè proprio alla base diciamo dell'esigenza e del desiderio di dire che le immagini sono soggetti in qualche modo potrebbe celarsi quello stesso pregiudizio che il pensiero moderno e contemporaneo ha cercato di mettere in discussione cioè l'idea di soggetto come sostanza come una certa cosa individuabile nello spazio e nel tempo e analizzabile a partire da un certo numero di proprietà al contrario invece intendendo la soggettività proprio come intendiamo l'immaginalità cioè come una funzione mediale anziché come una proprietà tassonomica che permetterebbe quindi di dividere il mondo tra soggetti e non soggetti diciamo così il carattere soggettivo delle immagini può essere facilmente assunto come l'estensione di una soggettività che però è una soggettività diffusa qui forse Jacopo Bodini sentirà un'area di famiglia irriducibile una soggettività che quindi è irriducibile alla coscienza e che per così dire sfugge ai limiti dell'egoità trascendentale come anche ai confini del corpo e che si configura sempre come una soggettività strutturalmente tecnica già da sempre tecnica quindi in questo modo la strategia non consiste nel pensare una sorta di soggettività diminuita che chiamiamo ad esempio la gentilità e pensare quindi come dire una sorta di depotenziamento del concetto di soggetto piuttosto si tratta di arricchire questo concetto di dire che la coscienza è una forma ridotta di soggettività e che per così dire pensare la soggettività come coscienza non basta perché la soggettività è molto molto di più qualcosa di molto più ricco e complesso quindi come dire Antonio ha menzionato Ors Bredekamp che fa uso del concetto di atto iconico sostitutivo che per esempio è un concetto molto bello che ci può aiutare a effettuare questa mossa nel momento in cui Bredekamp lo definisce sostanzialmente come questo scambio cangiante di corpo e immagine tuttavia nel suo libro Bredekamp si sofferma molto sul problema dell'iconoclastia sul problema per così dire della finitezza della distruttibilità dei corpi e delle immagini laddove a noi invece interessa una cosa diversa cioè a noi interessa la domanda genetica potremmo dire in altri termini il nostro problema è quello di stabilire come un corpo può diventare può diventare un'immagine ecco per fare questo noi cominceremo da da lontano cominceremo da due esempi antichi che noi cercheremo di presentare come due forme di divenire immagine da un lato come dire l'ascesi antica dall'altro la retorica che ci permetteranno poi invece di passare al tema dei videogiochi ora a un primo sguardo ascesi e retorica sembrano due pratiche o meglio ancora due tecniche opposte cioè la prima richiama una forma di isolamento la sceta è per definizione un isolato da dove la seconda invece costituisce storicamente un aspetto essenziale del modo in cui si struttura lo spazio pubblico quantomeno occidentale in modo correlato un'altra opposizione che se l'ascesi sembra consistere in un'operazione su di sé l'asceta cambia la propria vita diciamo così la retorica sembra invece possedere sempre una natura strutturalmente terroriferita cioè il retore parla a qualcun altro convince qualcun altro utilizza un'arma che deve avere un oggetto o altro rispetto a chi parla ora in contrasto con questa prima analisi noi vorremmo mostrare come invece ascesi a retorica sono due forme complementari ma anche fortemente convergenti del divenire immagine del rendere e del divenire immagine da un lato infatti le pratiche ascetiche possono essere analizzate come delle tecniche della visibilità che presuppongono un contesto intersoggettivo e che anzi non postulano l'esistenza di un soggetto prima di quel particolare contesto sociale in cui esso è calato e che è a sua volta strutturato da queste stesse tecniche dall'altro lato le tecniche retoriche verranno interpretate le interpreteremo come delle tecniche del rendere immagine in cui è innanzitutto il soggetto stesso a essere investito da questa potenza del linguaggio in un costante processo di autoplastica potremmo potremmo dire lascio quindi la parola ad Antonio sul primo elemento che è quello dell'ascesi Alessandro allora che cos'è l'ascesi? questa è una domanda che mi mi affascina da molti anni diciamo ascesi la parola ascesi a seconda dell'epoca storica in cui è stata utilizzata ha indicato cose molto differenti in Omero indica un adornamento nell'aposto americo appunto viene indicato come una forma altamente specializzata di un lavoro in sé concluso come un adornamento si utilizza per indicare i freggi dei palazzi per indicare gli intarsi degli scudi degli eroi è strano utilizzare ascesi in questo senso molto immaginale se ci pensiamo bene in realtà se si pensa alle trasformazioni della parola diventa quasi auto-evidente perché noi intendiamo ascesi nel senso quotidiano odierno come rinuncia come lavoro anche di auto-macerazione potremmo dire mentre invece i greci originalmente lo intendevano in questo senso immaginale perché se l'asceso originalmente è una forma di ornamento una forma di lavoro perfezionato un lavoro in sé concluso poi questa qualità oggettuale rapidamente diventa una qualità del soggetto che porta a termine quel lavoro sia asceta non è tanto ascetico non è tanto lo scudo cesellato ma colui che ha esercitato la propria abilità di cesellatore in maniera tale da diventare perfetto nella propria arte ascetica tra virgolette in questo senso antico e quindi può essere chiamato asceta da lì al concetto di ascesis che viene utilizzato nei tragici in Platone e Aristotele ossia ascesis significa esercizio training in maniera fisica viene utilizzato addirittura per descrivere le attività di preparazione e giochi di Olimpia da parte degli atleti il passo il passo è breve da lì al considerare anche l'esercizio spirituale quindi il lavoro di perfezionamento di cesellatura di se stessi di esercizio costante di autoperfezionamento anche dal punto di vista spirituale quindi religioso il passo è ancora più breve già in Filone di Alessandria questa cosa sarà chiara in tutta la diciamo la tradizione cristiana la vita la vita ascetica coincide con la vita monastica il lavoro dell'asceta in realtà diventa il lavoro su se stesso al fine di perfezionarsi nella storia della filosofia questo concetto di ascesi verrà più o meno legato ai temi della religione del martirio della rinuncia della devastazione anche del corpo a fini spirituali per molto tempo fino al novecento potremmo dire nel novecento ci sono autori io quindi ho nominati due Piero Adomisch al Foucault si potrebbero anche nominarne altri come Peter Slotter ad esempio questi autori hanno ricominciato a pensare il mondo della ascesis greca come un qualcosa di attuale ossia l'ascesi come training come pratica autoplastica autoperformativa automodificativa e quindi possiamo appunto cominciare a vedere che l'ascesis è da pensare come una tecnica del sé possiamo andare avanti e parlare non più di ascesis ma di tecnica scetica ecco tecnica scetica è un po' una definizione che ho coniato a partire da questo discorso antico e anche contemporaneo della filosofia sull'ascesis per definire un qualcosa di estremamente specifico ossia tecniche scetiche sono pratiche corporee di automodificazione messe in atto da un soggetto al fine di mutare radicalmente il proprio statuto ontologico di partenza e lo descrivo con questo schema triangolare vedate bene il triangolo è equilatero quindi non consideriamo necessariamente un lato più importante di altri io qui ho messo le tecniche della visibilità che adesso andrò a spiegare cosa sono alla base ma potrebbero essere tranquillamente posizionate su uno dei lati ecco allora due autori francesi del novecento Michel Foucault e Marcel Mauss parlano rispettivamente di tecniche del sé e di tecniche del corpo Marcel Mauss che è il primo a parlarne a livello cronologico parlando di tecniche del corpo sostiene fondamentalmente che le tecniche del corpo siano delle pratiche che il soggetto a partire da un determinato contesto sociale applica a se stesso al fine di modificare il proprio statuto corporeo c'è un lato estremamente ginnico nelle tecniche del corpo di Marcel Mauss Marcel Mauss lo definisce nel 36 cito dal giornale de psicologie le façon dans les hommes société par société d'un façon tradizionale savent servir de leur corps quindi le maniere in cui gli uomini di società in società in modo tradizionale sanno servirsi del loro corpo e Marcel Mauss quindi parla di questi effetti di mutamento del soggetto tramite il training corporeo Michel Foucault 50 anni più tardi fa un passo avanti e parla di tecniche del sé in un seminario all'Università del Vermont nell'82 definisce tecniche del sé adesso qui salto la definizione però diciamo riassumendo si può dire che le tecniche del sé per Foucault sono una serie di pratiche sia fisiche che spirituali non immediatamente ginniche ma anche mediate tramite degli strumenti tecnici ad esempio la scrittura tramite delle pratiche diciamo mediali che permettono il cambiamento del soggetto sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista spirituale psicologico etico diciamo tutta una serie di termini per indicare ciò che non è immediatamente riducibile nella soggettività alla corporeità quindi potremmo dire a me piace molto questo appunto questa notazione che mi ha fatto Alessandro una discussione appunto mutamento della sostanza etica le tecniche del sé in Foucault portano al mutamento di ciò che potremmo chiamare sostanza etica proprio per indicare ciò che non è immediatamente riducibile al corpo ecco personalmente ho sempre trovato queste due definizioni di lascesi potremmo dire estremamente fascinanti ma anche manchevoli di un aspetto che è proprio quello che ha a che vedere con l'immaginalità e che ho chiamato tecnica della visibilità ora tecnica della visibilità fondamentalmente rappresentano l'integrazione immaginale delle tecniche del sé e delle tecniche del corpo e che cosa consistono tecniche diciamo della visibilità queste sono innanzitutto intersoggettive l'essere umano è quell'animale che è esposto allo sguardo di altri esseri umani diciamo l'intersoggettività è costitutiva e un corpo che si esercita che modifica intenzionalmente se stesso sia a livello diciamo spirituale per per capire di cosa stiamo parlando ma potremmo dire psicologico potremmo dire etico e così via perché cambia se stesso dal punto di vista spirituale e fisico non lo fa mai se non a partire dal non poter essere visto a livello di principio l'esempio dell'anacoreta che faceva Alessandro che si ritira su un monte da solo potrebbe mettere in crisi questa definizione ma fino a un certo punto perché l'anacoreta che si ritira su un monte non è mai solo è accompagnato da una diciamo dai suoi demoni dagli angeli dallo sguardo di Dio dai santi se parliamo di un'anacoreta ovviamente della tradizione cristiana ma se parliamo di un'anacoreta o di un'eremita appartenente ad un altro orizzonte religioso il discorso vale comunque quindi c'è sempre di principio un potere essere visto le tecniche ascetiche sono sempre intersoggettive non solo perché determinate epoche e determinate culture mettono in atto diverse tecniche ascetiche la diversità della tecnica ascetica è legata ad un orizzonte estetico mediale preesistente per spiegarlo mi piace fare un esempio estremamente spettacolare di ascetismo antico che però rende bene l'idea nel quarto secolo dopo Cristo in Siria dei santi degli uomini profondamente legati al cristianesimo salgono su delle colonne e cominciano a predicare a tigionare a fare i miracoli da sopra queste colonne questi santi verranno chiamati stiliti perché appunto saranno su queste steli ecco perché questi santi salgono sulle colonne e perché proprio in Siria perché in Siria c'erano molte colonne ad esempio ossia le rovine delle infrastrutture romane erano estremamente presenti in Siria seconda cosa perché il clima della Siria permetteva un essere esposto o costante in maniera molto diversa da quello dell'Egitto un altro posto dove il monachesimo si è sviluppato molto in Egitto le temperature non avrebbero permesso un questo tipo di esposizione ma neanche in Gallia infatti in Europa c'è solo un santo stilita a cui poverino d'inverno in Gallia cadono le unghie per il freddo e poi il vescovo lo richiama all'ordine facendolo entrare in monastero terza cosa che non va sottovalutata a 200 km dalla prima stela del primo santo stilita c'era il vecchio vecchissimo tempio della Targatis una delle idee siriache più importanti dove per centinaia di anni appunto i sacerdoti avevano fatto divinazioni sopra delle colonne falliche altissime quindi degli stiliti antilitteram ossia c'è un background estetico mediale che segna i modi del divenire immagine le tecniche della visibilità ossia lo stilitismo è pensabile in Siria altre forme sono pensabili altrove e quindi capite che il risultato del salire sopra una colonna rende quel soggetto non solo un soggetto ascetico non solo qualcuno che esercita il suo corpo non solo qualcuno che cambia la propria sostanza etica ma anche un'immagine ossia gli effetti delle pratiche ascetiche sono effetti potremmo dire iconici o immaginali bene io come dire mi mi rivolgo invece al secondo esempio che è quello che è quello della retorica che abbiamo visto appunto essere in prima battuta apparentemente solo apparentemente opposto diciamo al modello dell'ascesima che in realtà presenta numerose somiglianze con ciò che Antonio vi ha appena detto dunque parlando di retorica innanzitutto torniamo ancora una volta su quella questione che abbiamo affrontato all'inizio cioè il rapporto tra logos e immagine quindi rifaccio a un testo molto bello di Giulio Preti che identifica per così dire due culture la cultura umanistica legata alla retorica e quella scientifica legata alla logica passando proprio attraverso queste due opzioni fondamentali cioè queste due opzioni nell'intendere il rapporto tra immagine e linguaggio tra immagine e parola da un lato infatti la logica ritaglia o pretende di ritagliare uno spazio del linguaggio del pensiero che si sottrae al dominio dell'immagine quindi non lo so la logica di Paul Royale per esempio è molto netta su questa cosa cioè la logica è lo spazio delle idee chiare e distinte dove invece la retorica è lo spazio che esclude le idee confuse e tra le idee confuse esclude anche le immagini il dominio per così dire dell'informazione digitalizzata ecco non dell'analogia dall'altro lato invece la retorica intesa non solo come una tecnica ma più radicalmente proprio come modo di intendere il senso del linguaggio interpreta il linguaggio stesso come un possibile modo dell'immagine come una modalità dell'immagine in questo senso il carattere psicagogico della tecnica retorica cioè la capacità della retorica di sedurre di convincere che viene celebrata già da gorgia e che poi insomma arriva fino ai giorni nostri passando per i domani che chiameremo anche brevemente in causa questo aspetto psicagogico è strettamente legato alla capacità del linguaggio di produrre immagini meglio non produrre immagini ma trasformare le cose in immagini ora già nella riflessione ciceroniana un aspetto essenziale della tecnica del retore è quello che si chiama illustrazio o evidenzia qui cicerone poi fa anche riferimento al termine greco in argheglia nella psicologia aristotelica l'evidenza che è il primo modo di tradurre queste parole era una caratteristica dell'intuizione dell'intuizione noetica qualcosa per così dire di pre-logico rispetto al quale non è possibile cadere in errore come ci insegna la metafisica da questo punto di vista è molto interessante che con cicerone l'evidenza si trasformi invece in una proprietà del discorso stesso qualcosa che il discorso riesce a fare con il proprio potere eccedendo per così dire i limiti del ragionamento argomentativo grazie all'illustrazio in altre parole lo spettatore non viene convinto da una catena di ragionamenti ma viene convinto dall'evidenza intuitiva di ciò che l'oratore sta affermando cioè non lo capisce ma lo vede lo sente lo esperisce in prima persona già secoli prima nell'encomio di Elena Gorgia aveva fatto riferimento a questa caratteristica diciamo del linguaggio affermando che grazie ai discorsi l'anima riesce a provare idiontipatema cioè un'affezione un'affezione propria ora nella retorica Aristotele descrive questo potere del linguaggio con una perifrasi il linguaggio è capace di mettere davanti agli occhi pro maton poien il contenuto del discorso ora in questa descrizione è evidente il primato insomma la predilezione per l'elemento visuale il massimo effetto del discorso è raggiunto quando si riesce a sfruttare il più potente dei sensi che è la vista all'interno del processo psicagogico non a caso la nozione di energieia è stata associata dagli studiosi al concetto di immersività un termine che risuona molto nel dibattito contemporaneo sulle esperienze mediali e sul quale ritorneremo perché? perché proprio nel fare questo passaggio cioè proprio nel dire che l'energieia è una forma di esperienza immersiva si riduce l'immersività a una sorta di illusione estetica cioè alla capacità di un dato medium di dare al soggetto l'impressione di essere altrove rispetto a dove si trova o di star esperendo qualcosa di diverso rispetto a ciò che a ciò che vede ora rispetto a questa riduzione dell'esperienza immersiva a un'illusione dell'essere altrove o dell'essere altro è opportuno segnalare che l'immersività consiste propriamente non in questo ma in una riconfigurazione mediale dell'esperienza del soggetto cioè ascoltando la parola dell'oratore esperto l'ascoltatore non percepisce qualcos'altro ma per così dire percepisce altrimenti in modo diverso a questo proposito ad esempio oltre al termine nargeia si usa molto il termine ecstasis per designare l'esperienza dell'ascolto della parola retorica questo termine può evocare sicuramente l'esperienza di essere trasportati altrove per esempio non so ascoltando la Edo che canta delle protezze di Achille lo spettatore può avere l'impressione di essere trasportato sul campo di battaglia tuttavia questo termine potrebbe anche evocare qualcosa di diverso cioè all'idea che il linguaggio non sposti il soggetto ma per così dire lo faccia vivere in un piano mediale diverso cioè lo immerga in un'atmosfera mediale connotata diversamente in cosa consiste questa differenza mediale? Consiste precisamente nel fatto che la parola riesce a far vivere il soggetto come immagine e questa non è un'esperienza eminentemente visuale per esempio il coinvolgimento immersivo dello spettatore qualcosa che la letteratura antica greca chiama enagoniosis non ha esclusivamente un valore emetico rappresentativo per così dire dal momento che gran parte dell'effetto è dovuto all'inflessione delle parole è dovuto al timbro al volume della voce a caratteristiche per così dire non diegetiche non rappresentazionali ora in questo modo quindi la retorica non è solo l'arte di trasformare le cose in immagini davanti ai soggetti ma anche e soprattutto di trasformare i soggetti in immagini tra le immagini intesa come una tecnica del linguaggio quindi la retorica sembra ancora legata però alla capacità del soggetto di intervenire sul mondo diciamo così in altri termini qual è il problema questa descrizione dei poteri del linguaggio retorico sembra ancora postulare che esista un soggetto pre-retorico diciamo così capace di impratitirsi nell'uso del linguaggio per poi intraprendere la trasformazione progressiva del mondo in immagine a uso dei suoi obiettivi ora la retorica rispetto a questa descrizione è innanzitutto una tecnologia del sì precisamente come l'ascesi questo non solo nel senso assai specifico che una parte essenziale dell'arte retorica è la capacità di presentare se stessi cioè presentare l'oratore e dunque il soggetto parlante come un soggetto veridico molto più universalmente la retorica è una tecnologia del sé perché l'operazione del dire se stessi non segue in modo giusto appositivo ma accompagna strutturalmente il processo di formazione del soggetto cioè il soggetto diventa soggetto imparando a dire se stesso in immagine parlare della retorica come una tecnica quindi non deve farci dimenticare che la retorica non è solo un'arte non è per così dire qualcosa di raro qualcosa di un appannaggio di pochi esperti che si possa raggiungere in seguito a un lungo training la retorica è una modalità strutturale d'essere del linguaggio in ogni sua espressione in quanto animali parlanti gli uomini producono immagini con le parole e producono se stessi in quanto immagini tra queste immagini qui insomma il filosofo che forse più radicalmente ha pensato questa dimensione fantastica immagopoietica del linguaggio è Gian Battista Vico ma ancora oggi ad esempio gli studi di George Lecoff e Mark Johnson sulla natura inerentemente metaforica del linguaggio è anche per così dire inerentemente spaziale basta vedere quanta difficoltà io e Antonio stavamo avendo nel non usare un linguaggio spaziale per parlare di cose che non vogliamo siano spaziali ecco gli studi per esempio di Lecoff e Johnson ci permettono di porre l'accento sull'inemendabilità di questa funzione linguistica il cui significato antropologico non ha una semplice valenza culturale per così dire ma è proprio incorporato nella stessa costituzione del nostro cervello parlando creiamo immagini parlando di noi stessi imparando a dire noi stessi ci facciamo immagine e questo riferimento diciamo al nostro farci immagine ci permette finalmente di passare ai videogiochi a te Antonio grazie Alessandro sì ecco come come dice anche in maniera estremamente icastica il fumetto i videogiochi sono la nuova tecnica del divenire immagino stiamo parlando abbiamo fatto un lungo percorso che è partito da un discorso antropologico sul divenire immagine è passato tramite due esempi antichi di divenire performativamente in maniera appunto tramite l'embodiment potremmo dire della parola e dell'immaginalità stessa fino ad arrivare appunto al contemporaneo abbiamo fatto un discorso progressivo saltando molte tappe storiche ma a livello sistematico coerente a nostro parere ossia abbiamo parlato delle diverse modalità tramite cui il soggetto si fa l'immagine e si rapporta agli altri in quanto immagini ora la nostra tesi è che l'esperienza ludico digitale appunto non parliamo di videogiochi perché come avrete capito il paradigma visiocentrico da noi viene messo un po' in questione e adesso spiegherò anche in quale forma viene messo in questione ecco l'esperienza ludico digitale è un'esperienza del divenire immagine ora noi ci proponiamo nella chiusura del nostro intervento o nell'ultima parte comunque del nostro intervento di criticare tre posizioni invalse nella trattazione dei videogiochi il primo è quello che chiamiamo modello dei due mondi ossia esiste un mondo reale in carne ed ossa concreto vero sanguigno esiste un mondo virtuale digitale di afano rappresentativo potremmo dire diminuito con un valore di verità e di realtà inferiore e con un valore di cosalità nullo ecco questi due mondi il mondo reale e il mondo virtuale sono separati questo è il primo paradigma che vorremmo criticare tramite l'esempio dei videogiochi secondo paradigma è legato a questa concezione dualistica ossia il rapporto tra mondo reale e mondo virtuale si dà tramite un modello che con l'intuizione di Alessandro noi chiamiamo metempsicotico ossia se la metempsicosi è la teoria della trasmigrazione delle anime il rapporto tra mondo reale e mondo virtuale sembra esattamente pensato a partire dalla trasmigrazione della soggettività dal mondo reale al mondo virtuale quindi il nostro avatar e questo poi ci porta al terzo punto è una trasmutazione trasmigrazione del da un mondo a un altro della nostra soggettività e questo avatar questo è il terzo punto che vorremmo criticare è un avatar diminuito ossia è una soggettività meno vera meno completa che che conserva solamente alcune caratteristiche rispetto alla soggettività che vive nel mondo reale ossia la soggettività digitale è qualcosa di meno di ontologicamente minore potremmo dire rispetto alla soggettività nel mondo reale ecco diciamo questi potremmo dire tre paradigmi possono essere riassunti sotto la legida di inganni visiocentrici e su questo ci dirà qualcosa Alessandro perfetto grazie Antonio allora entriamo quindi nel vivo dei videogiochi come l'ascesi e la retorica i giochi digitali ecco chiamiamoli così sono una tecnica del rendere e del divenire del divenire immagine cerchiamo però di dire qualcosa sui caratteri specifici di questa di questo medium del medium del medium ludico digitale allora nel 2003 Gonzalo Frasca uno studioso di videogiochi ha proposto un modello che vorrei in parte adottare in parte criticare per individuare la specificità dei 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 videogiochi li chiameremo videogiochi perché ovviamente li chiamano tutti così quindi insomma non vogliamo essere esotici questo modello è basato sulla contrapposizione tra narratologia e ludologia in particolare secondo Frasca tutta la storia della cultura occidentale è fondata sull'analisi di un certo tipo di immagini su un certo tipo di sistemi semiotici che lui chiama sistemi semiotici rappresentativi ora la rappresentazione è oggetto della narrazione nella narrazione le immagini si susseguono lo spettatore può interagire in un certo senso con esse però tutto al più in modo soggettivo attraverso il proprio coinvolgimento spettatoriale senza però mai avere l'opportunità di interagire effettivamente con il modo in cui le immagini si susseguono qui Frasca come dire il contesto in cui Frasca scrive è molto importante Frasca ce l'aveva sostanzialmente col fatto che quando sono cominciati gli studi sui videogiochi sembrava quasi che i videogiochi non essero analizzati come dei film come dei prodotti narrativi diciamo così ora invece in cosa consiste la specificità dell'elemento ludologico che il gioco è basato sulla nozione di simulazione Frasca definisce la simulazione così la simulazione è un sistema che rimodella un sistema sorgente mantenendo per un soggetto alcuni dei comportamenti di quel sistema in altri termini la simulazione a differenza della rappresentazione reagisce al soggetto cioè interagisce col soggetto reagendo al comportamento o ad alcuni dei comportamenti di quel soggetto detto in altri termini se io premo il controller in un certo modo quello che succede sullo schermo cambia in modo veramente minimale mentre quindi la narrazione è guidata dall'idea di destino cioè alla fine Ettore muore sempre e c'è poco da fa la simulazione invece è legata a un elemento contingente perché come si svolgono le cose dipende dalla performance del soggetto della simulazione cioè del giocatore diciamo così ora nonostante Frasca tenga molto a negare la separazione tra questi due elementi narratologico e ludologico poi di fatto li propone come due alternative però non di meno a me interessa porre l'accento su alcuni problemi di questo modello di Frasca allora innanzitutto questo modello distingue narrazione e rappresentazione e simulazione narrazione e gioco sulla base dei possibili risultati cioè la differenza tra le due forme è quantitativa in questo modo cioè il problema è che mentre una narrazione ha un solo finale possibile un gioco ha più esiti possibili tuttavia è possibile immaginare un videogioco che ha un solo svolgimento possibile e ce ne sono ce ne sono diversi così come è possibile immaginare un'opera letteraria che si rinnova a ogni lettura io pensavo qui ai centomila miliardi di poesie di Raymond che no Antonio mi suggeriva le quindicimila diverse copie del Tristano di Nanni Balestrini ora paradossalmente ed è il secondo punto il modello simulativo di Frasca è improntato alla base sull'idea di rappresentazione cioè la simulazione è tutto sommato un calco interattivo un'immagine per così dire una rappresentazione di qualcosa che reagisce all'interazione con il soggetto quindi in questo senso l'analisi di Frasca si concentra più diciamo sul comportamento dell'oggetto sul fatto che l'oggetto si comporti conformemente a ciò che l'oggetto rappresenta ciò che la rappresentazione si comporti in modo realistico diciamo così che limiti bene l'oggetto diciamo così piuttosto che sull'effettiva struttura del medium videoludico infine ed è il terzo punto stabilendo un parallelo tra i comportamenti del primo sistema e i comportamenti del sistema simulato Frasca presuppone un'omologia comportamentale che non esiste cioè presuppone l'idea che io nel sistema simulato faccia cose che faccio nella realtà cosa che non è vera io quando agisco nel mondo fisico faccio cose completamente diverse da quelle che faccio quando gioco a un videogioco con un controller in mano cioè a comportamenti diversi corrispondono risultati diversi un ultimo punto che sul quale poi vorrei elaborare è che il modello di Frasca non distingue tra narrazione come contenuto e narrazione come forma la produzione di narrazioni come contenuti è essa stessa un gioco anzi è il gioco più diffuso nella nostra società è precisamente il gioco che crea ciò che noi chiamiamo società o spazio sociale la differenza tra simulazione e ciò che noi chiamiamo realtà non è la differenza tra un mondo di simulacri interattivi e un mondo di oggetti reali cioè non è possibile proprio sulla base del nostro come dire orrore cosale distinguere la dimensione mediale da quella reale attraverso una distinzione tra immagini e non immagini perché anche il nostro mondo è fatto di immagini anche il mondo fisico e il mondo sociale è un mondo di immagini quindi come dire la differenza tra simulazione e spazio sociale è una differenza tra due ordini di immagini come pensare allora questa differenza questa è come dire un po' la mia proposta la nostra proposta mentre i teorici dell'illusione estetica cioè quei teorici che vedono l'immersività dell'esperienza mediale come una forma di illusione quindi come dire il soggetto è immerso nel videogioco ad esempio perché non riesce a distinguere l'immagine dalla cosa di cui l'immagine è immagine secondo noi invece è possibile affermare esattamente il contrario cioè che l'esperienza ludica e l'esperienza sociale si differenziano precisamente perché se nell'esperienza sociale siamo chiamati a trattare le immagini come immagini di cose e quindi siamo costretti per così dire a considerare le immagini nel loro carattere etero riferito a qualcosa d'altro dall'immagine nel primo caso cioè nell'esperienza ludica possiamo trattare liberamente le immagini come immagini nella loro pura autonomia nel loro come dire autoriferimento detto in altri termini l'immagine in quanto immagine è la cosa stessa con cui noi propriamente interagiamo in questo senso il gioco non è gioco perché simula la realtà il gioco non è gioco perché permette più finali o perché permette più scelte possibili il gioco è gioco perché è un sistema mediale nel quale il soggetto può interagire con le immagini come immagini facendone l'oggetto esplicito e diretto della propria azione e può fare così seguendo le regole del gioco rompendole obbedendo alla storia ignorandola non è più questo il criterio dell'esperienza ludica non c'è più bisogno quindi di fare continuamente affidamento all'elemento narrativo per spiegare che cos'è un gioco per esempio un gioco può ancora essere un gioco se ignoriamo le sue regole se durante la rappresentazione teatrale io a un certo punto interagisco con uno degli attori rompo lo schema della rappresentazione al contrario nel caso dei giochi digitali io posso rompere le regole del gioco e rimango assolutamente all'interno dell'esperienza ludica per esempio le pratiche del cheating cioè usare i trucchi detto in italiano o per esempio dello speed running che è una pratica sempre più diffusa che consiste nel provare a terminare un gioco il più velocemente possibile ignorando completamente come dire le dinamiche interne a quel gioco e le sfide che quel gioco intende porre al giocatore sono per esempio esempi plateali in cui si viola o si ignora o si altera la struttura del gioco continuando a giocare a questo proposito c'è tra l'altro un canale di youtube molto bello si chiama let's game it out che per me è esilarante perché è molto divertente ma è anche teoreticamente molto fecondo perché è questo ragazzo che come dire volontariamente e strutturalmente gioca a decine di giochi nel modo peggiore possibile cioè lui gioca ai giochi in modo sbagliato provando a rompere il gioco provando a fare cose diverse da quelle che il gioco vuole che lui faccia ora in questo contesto narratologia e ludologia cioè rappresentazione e simulazione diventano due poli non più esclusivi di un'esperienza assolutamente unitaria il modello immersivo basato sull'illusione estetica postulando il primato del visuale tende a dare maggior valore all'elemento narratologico cioè un videogioco è immersivo secondo questo modello quando offre al giocatore o allo spettatore perché più o meno insomma le cose si confondono rappresentazioni realistiche di una storia tuttavia questo per esempio può apparire provocatorio però la narrazione che vede il carattere immersivo dei videogiochi crescere con l'aumentare della potenza dei calcolatori grafici e quindi con l'aumentare del realismo della grafica è sostanzialmente una menzogna perché noi sappiamo di persone che giocavano a pong e che dicevano sembra di essere sul campo da tennis o cose di questo genere cioè non solo il realismo della grafica è assolutamente come dire dipendente dal contesto culturale ma soprattutto non stiamo parlando di quello cioè l'immersività non consiste nell'illusione estetica cioè per dirlo in modi radicali dal punto di vista dell'esperienza dell'esperienza mediale una partita a Tetris non è meno immersiva di una partita a un gioco come Death Stranding per esempio che è l'ultimo gioco di Leo Kojima e che è un gioco fantastico utilizzatore di Hollywood è una produzione a livello di un film di Nolan insomma oltretutto questa narrazione ha un'immediata connotazione politica cioè privilegiando l'iperrealismo privilegiando per così dire questa dimensione narrativa si tende a identificare l'esperienza videoludica con le grandi produzioni cioè con quelle produzioni che vengono realizzate appunto da centinaia e centinaia di sviluppatori a discapito invece di quelle forme di esplorazione del medio videoludico che si basano appunto su idee anche molto semplici e che permettono di offrire non di meno delle esperienze mediali assolutamente assolutamente degne di nota ora questa oscillazione tra dimensione narratologica un po' mutuata dal cinema e dimensione ludologica può essere esplicata a grandi linee in modo secondo noi io queste sono un po' più insomma arrembanti di Antonio a grandi linee facendo riferimento a due grandi modelli di produzione di videogiochi da un lato il modello Sony dall'altro il modello Nintendo se il modello Sony emulato da Microsoft quindi l'Xbox non è interessante da questo punto di vista il modello Sony si incentra sulla creazione di giochi sempre più realistici capaci di offrire un'esperienza sempre più illusoria con storie lunghe capaci di fare concorrenza alle grandi produzioni cinematografiche non a caso grandi attori spesso premi Oscar vengono utilizzati per prestare la loro voce o il loro corpo alle più grandi produzioni delle case più ricche al contrario di questo modello il modello Nintendo invece si basa sulla messa appunto di esperienze di gioco inette l'opposizione non potrebbe essere più radicale e la si può dire in una formula nel caso della Sony la console è un mezzo per giocare ai giochi cioè io compro la Playstation perché devo giocare a Gods of War a Death Stranding a non lo so ai vari giochi per cui si può giocare che si può giocare che si possono giocare sulla Playstation che sono degli enormi e lunghissimi film interattivi diciamo così nel caso della Nintendo invece i giochi sono una scusa per giocare alla console cioè io gioco ai giochi della Nintendo perché ho bisogno di qualcosa che mi permetta di sperimentare le possibilità di interazione che il Medium mi offre non a caso insomma la Nintendo ha dato tutta una serie di innovazioni mediali rivoluzionarie al mercato dei videogiochi la Nintendo ha creato la levetta analogica che è quella levetta diciamo che si ruota ha creato il puntamento automatico nei giochi d'azione ha fatto il primo grande gioco in realtà aumentata che è Pokemon Go con la Switch poi si sono sbizzarriti cioè la Switch per chi l'ha provata è uno strumento stranissimo che si basa molto proprio sull'esperienza della console diciamo così più che sui giochi che è possibile giocare sulla console così come per esempio non so il Nintendo Lab è come dire un'esperienza di bricolage fai da te si comprano questi pezzi di cartone che vanno poi smontati e rimontati per trasformare la console in un fucile in una cana da pesca in un pianoforte e così via ci sarebbero dei video ma potete andare a cercare su YouTube fino per esempio all'ultima cosa in cui hanno creato il Mario Kart vivo cioè si può comprare questa macchinina telecomandata che permette di trasformare il luogo in cui ci si trova in una pista di go kart in realtà aumentata che si esperisce attraverso attraverso la console ora sulla base di questo modello che vi ho appena tratteggiato quello che noi vorremmo fare è porci una domanda benissimo i videogiochi sono una tecnica del rendere immagine ma dove sono queste immagini cioè se attraverso il medium ludico digitale il soggetto può farsi immagine e interagire con le immagini dove avviene propriamente questa esperienza per affrontare questo problema passo la parola ad Antonio la questione del luogo delle immagini videoludiche la questione del luogo delle immagini to core Hans Belting alla domanda qual è il luogo delle immagini risponde univocamente il luogo dell'immagine è l'uomo ossia nel senso qui stiamo parlando di una costante soglia di discernibilità tra immagine e che tra l'altro è sparita al momento ma ricomparirà a breve sì sì perché stavo connividendo il video perdonami tra essere immagine e diciamo essere dentro e fuori dal gioco per capirci i video che adesso vedremo e ne vedremo tre sono tre messe in questione a nostro parere radicali del paradigma dei due mondi ossia a nostro parere poi mi soffermerò sui video dopo che li avremo visti questi questi esempi videoludici che andremo a mostrare chiariscono perché il modello dei due mondi il modello della metempsicosi il modello dell'avatar diminuito non funzionano come descrizione del rapporto tra soggetto e immagine videoludica vai Ale credo che tu debba accendere il microfono forse per farlo sentire però ecco qui diciamo non sentiamo l'audio però questo è un videogioco giapponese dal nome Dance Dance Revolution nel 1997 ma che esce aggiornato ogni anno è per lo più diffuso in sala giochi qui vediamo una persona per record mondiale tra l'altro c'è un'interazione tra musica freccette che vengono mostrate sullo schermo o freccette che si illuminano diciamo sulla piattaforma sulle piattaforme a terra e bisogna danzare bisogna muoversi in corrispondenza delle frecce che compaiono sullo schermo al momento giusto premere le frecce anche a terra qui vediamo appunto un corpo che è totalmente presente sia nel mondo che noi chiamiamo reale che nel mondo che viene chiamato virtuale ossia cioè è estremamente complesso in questo caso descrivere una zona di migrazione da una realtà all'altra anche per far capire la nostra critica visocentrica se voi immaginate questo gioco solamente a partire dalla musica dalle frecce a terra si potrebbe anche pensare al di là dello schermo potremmo dire ecco questo invece è un simulatore di realtà virtuale dal nome Birdly in cui un soggetto viene effettivamente posto su una sorta di lettino in cui appunto si muove come se fosse un ocello e può planare in un mondo preistorico in questo caso ma è stata fatta anche una simulazione di Parigi sono state fatte varie simulazioni qui vediamo appunto come è totalmente sinestetica l'esperienza tra l'altro Andrea Pinotti ha scritto un bel saggio su questo su questo lavoro di realtà virtuale qui vediamo appunto come sia anche qui impossibile veramente segnare una storia di indistinzione tra lavoro corporeo in questo mondo e nell'altro mondo tra virgolette vedete anche noi come diceva Alessandro come siamo in difficoltà quando dobbiamo emanciparci da metafori di carattere spaziale non so se abbiamo tempo per vedere anche il terzo video ma se non ce l'abbiamo Alessandro non fa niente eccolo qui qui invece abbiamo una simulazione di VirtuX Omni che è forse al momento l'esperienza di cosiddetta realtà virtuale più interessante si utilizza un corsetto che è legato a una piattaforma e ci si muove connessi a questa piattaforma questa sorta di tapirulà a terra si può correre si può piegare si può interagire sparando anche qui vedete come l'attività del soggetto nel mondo tra virgolette reale sia l'attività del soggetto nel mondo tra virgolette virtuale quindi c'è questi esempi ecco questo è veramente paradigmatico questi esempi a noi servono per dirvi una cosa che in realtà vi stiamo dicendo già da un po' ossia che fondamentalmente il modello dei due mondi il modello migratorio e il modello diminutivo della soggettività nella virtualità non funzionano perché è sempre un corpo che si esercita perché è sempre un corpo che diviene immagine e le immagini che il corpo esperisce tramite la realtà virtuale possono essere considerate minori per intensità per qualità o per veridicità rispetto a quelle che noi incontriamo live-hafti direbbero i fenomenologi cioè in carne ed ossa solo se abbiamo come pregiudizio di partenza che le immagini siano cose e non funzioni e questo ci porta a una tesi a cui io e Alessandro diciamo teniamo molto ossia la dico nella maniera più trancion possibile di modo che così magari qualcuno si arrabbia e ne discutiamo in maniera viva e vivida alla fine del nostro intervento il virtuale quale entità simulativa separata dal soggetto che deve per entrare in esso disincarnarsi non esiste o meglio il virtuale è già da sempre reale in quanto esso comporta un divenire immagine del corpo un divenire corpo dell'immagine e la realtà dal canto suo è già da sempre aumentata in quanto come abbiamo visto è stata sempre innervata dai tentativi umani di divenire immagine per questo ciò che abbiamo chiamato avatar diminuito non è il modello corretto per pensare il soggetto del gioco digitale quindi per dirlo appunto in maniera ancora più ridotta il virtuale come separato dal reale non esiste questo mi porta alle mie conclusioni ossia al mio tentativo di sussumere la categoria videogioco in un una categorizzazione delle tecniche più ampia mi rifaccio un dibattito tedesco che è quello sulle tecniche culturali in tedesco culture techniken che è molto vivo in Germania un po' negli Stati Uniti quasi per nulla presente in Italia in Francia fondamentalmente in Germania non c'è una un'opinione condivisa da tutti su che cosa sono le tecniche culturali io mi rifaccio esplicitamente alla scuola perlinese di teoria della cultura e dei media in particolare questa scuola sostiene che esiste una differenza potremmo dire ontologica quindi radicale tra tecniche semplici e tecniche culturali le tecniche culturali sono caratterizzate da tre qualità che le distinguono dalle tecniche cosiddette semplici sono ricorsive sono neutrali rispetto al contesto di appartenenza e generano media mi spiego meglio prendiamo il cucinare il cucinare è una tecnica ma non è una tecnica culturale ossia non si può cucinare il cucinare si può cucinare qualcosa mentre invece se si prende lo scrivere lo scrivere è una tecnica culturale si può scrivere della scrittura oppure un'altra tecnica culturale è il produrre immagini si può dipingere un quadro che ha come oggetto un quadro le tecniche culturali sono neutre dal punto di vista del contesto ossia possono essere universalmente applicabili indipendentemente dal contenuto che esse hanno si possono ad esempio numerare la numerazione è una tecnica culturale si possono numerare le derrate alimentari le persone i profitti le vittime e così via in più terza caratteristica è ad esempio una tecnica di altro genere ad esempio il cucinare sempre non è neutro dal punto di vista del contesto perché io se non ho niente da cucinare non posso cucinare la generatività mediale significa semplicemente questo che le tecniche culturali hanno bisogno di media e creano media media materiali ossia per scrivere ho bisogno della penna della carta e se non è la penna della carta lo stiletto la tavola è incerata se non è lo stiletto la tavola è incerata è ad esempio una tastiera e uno schermo diciamo io sostengo e credo di poter sostenere che il videogioco sia una tecnica culturale perché si può giocare a un videogioco nel videogioco il contenuto del format videoludico è molteplice e relativamente indifferente per il medium ossia si può giocare a giochi che hanno come storie diversi tipi di storie diversi tipi anche di di modalità e la forma gioco videoludica porta allo sviluppo di sempre forme di media videoludici ecco perché secondo me è una tecnica potremmo dire culturale Alessandro ha di un'idea vicina ma forse con alcune specifiche importanti differenze grazie Antonio rispetto a quello che Antonio vi ha appena proposto in realtà io propongo un'alternativa semplicemente perché sto lavorando da un po' a una nozione che è quella di meta tecnica che in realtà non prendo da nessuna parte sicuramente il termine è stato utilizzato da altri autori per esempio Floridi utilizza questo termine per far riferimento alle tecnologie di controllo quindi le meta tecnologie sono per esempio gli impianti di sicurezza delle centrali nucleari non so come dire io però vorrei utilizzare questo termine in modo diverso e vorrei partire sempre da Floridi per chiarire quello che intendo dire Floridi distingue per esempio tra tecnologie di primo secondo e terzo terzo ordine cioè le tecnologie di primo ordine sono quelle che mediano direttamente soggetto e ambiente cioè non so bisogna la scopa è una tecnologia di primo ordine ci sono io che uso la scopa la scopa pulisce il terreno le tecnologie di secondo ordine sono quelle che mediano tra soggetto e oggetto attraverso la mediazione di un'ulteriore tecnologia quindi per esempio io devo piantare un chiodo in un albero uso il martello quindi soggetto chiodo martello chiodo albero le tecnologie di terzo ordine infine sono quelle in cui per così dire c'è una relazione tecnologia 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 quindi una relazione in cui soggetto e mondo interagiscono solo in quanto quasi protesi si potrebbe dire di interfacce tecnologiche quindi per così dire ci sono c'è il soggetto che ha per esempio uno smartphone lo smartphone si connette a un server il server si connette a un altro smartphone quello smartphone permette di fare delle operazioni di altro genere cioè sono per così dire tecnologie di terzo di terzo ordine ora il mio uso del termine metatecnica vuole in realtà fare riferimento agli spazi intermedi tra questi elementi messi in luce da floridi cioè il mio uso del termine metatecnica fa riferimento a quelle tecniche che non hanno come oggetto le tecnologie ma lo spazio mediano tra soggetto e tecnologia tecnologia e tecnologia tecnologia e mondo o tecnologia e ambiente detto in altri termini le metatecniche nell'uso che propongo di questo termine sono quelle tecniche che strutturano queste tre forme di interazione il che significa innanzitutto che esistono metatecniche per le tecnologie di primo secondo e terzo ordine indifferentemente e che esistono metatecnologie in riferimento a tu metatecnologie o metatecniche non mi interessa in questo momento la distinzione ma che esistono metatecniche relativamente a tutte le fasi e a tutti come dire a tutti gli aspetti del processo di mediazione tecnica ora quando uso questo termine cioè quando uso il concetto di metatecnica la mia idea di fondo è di obiettare diciamo all'idea della naturale tecnicità dell'uomo l'uomo non è tecnico naturalmente l'uomo è tecnico tecnicamente la tecnicità è un aspetto strutturale della vita dell'uomo ma non per questo è qualcosa che gli riesca facile o che gli riesca per così dire spontaneo quando diciamo ad esempio che l'uomo è un animale parlante non dobbiamo correre il rischio di naturalizzare quello che è un dato del tutto artificiale e contingente l'uomo è un animale dotato di linguaggio ma è dotato di linguaggio perché qualcuno lo ha fatto parlare perché qualcuno gli ha insegnato a parlare e quindi la domanda da fare è sempre in che modo questo particolare uomo è stato dotato di linguaggio questo discorso si applica per tutte le tecniche dal lato del soggetto come dal lato dell'oggetto e alcuni esempi come dire sarebbe poi possibile utilizzare il termine metatecnica per ricomprendere e analizzare alcuni concetti che già abbiamo trovato nella storia del pensiero per esempio il modo in cui Ivan Illich parla delle istituzioni o il concetto di dispositivo in Foucault e in Agamben l'educazione l'industria il design la burocrazia il diritto sono tutti esempi di metatecnica in questo discorso queste tecniche non si limitano a mediare tra uomo e ambiente ma mediano da un lato tra uomo e infrastruttura tecnologica dall'altro tra infrastruttura tecnologica e ambiente stesso ora rispetto alla proposta che Antonio faceva di comprendere i videogiochi come delle tecniche culturali provo a utilizzare i tre criteri che lui ha illustrato e cerco di capire in che modo il mio concetto di metatecnica si converge o diverge rispetto al suo allora le metatecniche sono sicuramente ricorsive nel senso che esiste un'educazione dell'educazione esiste un design del design esiste una burocrazia sulla burocrazia come sappiamo fin troppo fin troppo bene esiste un'industria dell'industria e così via le metatecniche che generano media e soprattutto non preesistono e ne sopraggiungono rispetto ai media che generano nel senso non si deve pensare che esistano i media e che poi rispetto a questi media che sono libri e fatti si creino delle metatecniche le metatecniche sono già direttamente implicate e coimplicate nel processo di sviluppo della configurazione mediologica di una società quindi come dire la metatecnica non arriva cronologicamente dopo una certa configurazione tecnologica ma la codetermina infine la neutralità qui è dove io e Antonio divergiamo cioè la nozione di tecnica culturale diverge dall'uso che sto cercando di proporre di metatecnica perché le metatecniche non sono neutrali sono storicamente e culturalmente contingenti e non sono possibili se non a partire da un determinato contesto tecnologico culturale quindi la mia proposta sarebbe quella di dire questo di dire che l'esperienza ludica digitale è una forma di metatecnica questa esperienza si distingue rispetto ad altre forme di metatecnica per esempio rispetto al modello atletico del quale parla Slaughter e altri e si caratterizza a sua volta per una specifica configurazione tecnologica cioè le console i media digitali e così via secondo questo modello videogiochi non sono solo un particolare tipo di intrattenimento ma una forma molto più generale ed estesa assunta dal nostro modo di interagire con la tecnologia e questo forse è un po' l'idea c'è un rifuso mi dispiace ma l'idea sarebbe che quando si fa riferimento al termine gamification quando si parla di ludicizzazione noi in realtà stiamo facendo riferimento precisamente a questo cioè al carattere metatecnico di quelli che noi chiamiamo videogiochi queste sarebbe un po' sono le nostre due proposte noi abbiamo finito vi ringraziamo per averci ascoltati e vi segnalo soltanto che dovrebbe esservi apparito all'improvviso un questionario in francese da compilare vi chiederemo di farlo perché siamo noi soggetti a una burocrazia della burocrazia della burocrazia a una burocrazia di terzo ordine oserei dire ma anche a una metaburocrazia e a una burocrazia culturale quindi tutto noi non facciamo non facciamo differenza e quindi ci fa molto piacere se ci date un feedback su questo seminario grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti